La pedagogia oggi sfide e responsabilità è il titolo del convegno organizzato oggi al Liceo delle Scienze Umane di Riposto nell'ambito del quale è stato festeggiato il decennale dell'istituzione della stessa scuola ed è stato presentato anche un libro, un volume realizzato dalla dottoressa Maria Pia Basso un libro dal forte contenuto introspettivo che la stessa autrice presenta così I destinatari sono tutti coloro che vogliono approcciarsi al testo e hanno bisogno o voglia di una rinascita perché la protagonista del libro, compiendo questo viaggio all'interno di se stessa non fa altro che risalire la china dopo un momento di grossa difficoltà e riesce a raggiungere l'immagine di donna che avrebbe voluto sempre essere Sin da piccola aspirava a divenire una donna determinata con delle proprie idee e una donna che potesse distaccarsi da quello che lei considera un coro stonato il cosiddetto greggio e belante al quale tutti si uniformano ma spesso senza neanche comprendere il perché dopo questo viaggio all'interno di se stessa aiutata dal fatto che riceve lei è una giornalista, riceve una mail da parte di una autrice misteriosa riesce a far pace con se stessa, riesce a ricoprire il ruolo sia di donna che di mamma che era quella a cui teneva particolarmente e anche a far pace con la sua figura, con la sua mamma con la quale aveva sempre avuto un rapporto particolarmente conflittuale Il suo libro ha già ottenuto un prestigioso riconoscimento letterario? Sì, si è classificato al secondo posto della sezione narrativa al premio internazionale letterario Il Convivio 2014 ottenendo tra l'altro una recensione di tutto il rispetto che è redatta da una scrittrice, una poetessa, nonché una critica letteraria che è la signora Dalgisa Licastro di Bari una donna che ha scritto parecchio e che è veramente riuscita ad entrare nelle pagine del libro scardinandolo in maniera molto profonda e dando veramente l'immagine di quello che il libro vuole rappresentare Relatore dell'incontro, che ha visto la partecipazione di diversi docenti universitari dell'Ateneo Catanese il professor Giovanni Lutri, preside del Liceo delle Scienze Umane di Riposto è un traguardo importante che abbiamo voluto insieme qui al presente sindaco festeggiare in modo che la cittadinanza sia sempre più attente, sempre più vicina a questa istituzione che cresce di anno in anno continueremo poi giorno 27 maggio alle 17.30 nell'Aula Magna del Liceo Classico di Giarre con un'altra manifestazione intitolata Donne tra 700 e 800, vita, costume e pensiero e completeremo con questa triade, con la Messe Scena il 29 maggio del 2015 alle 18.30 sempre all'Aula Magna del Liceo Classico di Giarre con Sciura, un'opera teatrale che è un adattamento dell'opera di Lucia Brischetto quindi un nutrito programma che sono orgoglioso di presentare questo pomeriggio a tutta la cittadinanza Grazie a tutti